Luigi Sappa, un incontro di Villanobel a Sanremo per incontrare la cittadinanza e perché? Doveroso a Sanremo, bellissima la location, perché? Per innanzitutto spiegare le motivazioni che mi hanno indotto a candidarmi il consigliere regionale. Molti mi hanno chiesto, la mia risposta è semplice, noi, e quando dico noi dico il popolo di Polis, ma più allargato, tutto il centro-destra, costituito dai moderati, liberali, socialisti, cristiani, quelli che sono contro le forme di giustizialismo becero, quelli che sono contro un'Europa unita, vogliono dare voce al popolo dei non rassegnati. Noi non siamo rassegnati, noi abbiamo la necessità ogni giorno di rivendicare la forza del nostro pensiero per mandare avanti l'Italia, questa è la forza che mi motiva alla candidatura regionale.